buonasera gobbi buonasera gobbe e buonasera agli amici cromosoma biancolero è il terzo video che registro post gara perché poi io esagero e allora preferisco rifarli questo è il terzo che faccio vediamo se riesco a farlo fatto bene allora non mi aspettavo niente di più e niente di meno la stagione io già l'avevo cioè l'avevo intuita che era dura difficile e complicata oggi e dopo quattro minuti il milan ci regala un gol e ho detto ah beh guarda se sta a mettere bene poi vi dico la verità al primo tempo neanche malissima juve abbiamo avuto qualche palla goal due belle parate de maignam e milan praticamente assente dalle nostre parti ricordiamo che il milan giocava senza sette non dico titolari comunque aveva sette indisponibili quindi non sfruttare una chance come quella di oggi è praticamente buttare tre punti proprio al cesso andiamo analizzare la partita noi ci meritiamo quello che abbiamo ottenuto ci meritiamo quello che abbiamo ottenuto perché perché siamo una squadra scarsa perché siamo una squadra incompleta perché siamo una squadra che non ha non ha il cambio di ritmo siamo una squadra che non ha una persona che riesce a dare due palloni in profondità che mandano il compagno in profondità perché solo sull'uno a zero arabiò fa due break al centrocampo scusate bentancur fa due break al centrocampo ha due palle da dare una arabiò solo davanti al maignam e una debbala solo davanti al maignam e sbaglia tutti i due passaggi quindi il discorso che vi faccio io quando a campagna acquisti vi dico questa squadra è incompleta e non si può presentare ai nastri di partenza del campionato come una delle candidate per ambire ai quattro posti champions o addirittura il campionato è per questo motivo perché tu sei scarso perché io per ritorno di mandragora schiattarella uccigarini a mettono sul piede del bentancur e di rabbio e sul piede di bala guavala perché è un passaggio elementare rabbio purtroppo scusate bentancur purtroppo c'ha un ferro da stiro al posto del piede e non riesce a far quel passaggio quindi poi a fine l'azione che poi dà il pareggio al milan è un'altra coincidenza molto strana dell'insicurezza che rignani nella nostra squadra quella palla è persa è morta scesni sta per uscire su un colpo di testa mi sembra dei tumori e rabbio di metter ginocchio e mandarla fuori perché sta in precario equilibrio quando scesni strilla lasciala e lì poi nasce il gol dell'1 a 1 perché poi queste cose accadono perché c'è un motivo perché c'è un motivo accadono no perché sei sfortunato perché sei incapace sei incapace e purtroppo l'incapacità va punita soprattutto nel calcio ricordo nelle ultime due gare di campionato noi facciamo due gol con Morata passiamo in vantaggio al tredicesimo sul regalo di Manolassa a Napoli e al quarto sul regalo del Milan dell'AC Milan oggi facciamo due partite in vantaggio diciamo tra virgolette ci mettiamo come vorrebbe giocare come vorrebbe come dovrebbe come l'unica soluzione che può giocare il nostro allenatore dietro e ripartire ma se noi contro piedi non riusciamo a farli perché non abbiamo un centrocampista che riesce a dare una palla fatta bene a chi contro piedi può fare è inutile è inutile perché tutte le volte che noi rubiamo palla non c'è un giocatore che sa fare una verticalizzazione e mette in condizione chi deve partire di sfruttare le sue qualità ma ragazzi miei ma ne abbiamo giocato in casa con l'Empoli abbiamo fatto zero gol due tiri in porta di chiesa l'Empoli prende tre gol da Alasio prende due gol dal Venezia prende tre gol da Alasio facciamoci le due domande facciamocelo e chi ancora parla e mi viene a dire che la rosa della Juve è competitiva non capisce in cazzo del pallone la rosa della Juve non è competitiva la Juve ha dei buonissimi giocatori ma la rosa della Juve non è competitiva è carente in tanti settori è carente in tanti ruoli è scarsa in molti altri la rosa della Juve è una rosa da Europa League in giù e ricordate in Serie B c'è una da Fiorentina di Batistuta ricordatevi quello che vi sto a dire questa è una squadra che se va in difficoltà si spacca si spacca ricordatevelo io mi auguro che mi sbaglio con tutto il cuore ma questo sarà un anno di lunghe sofferenze perché io ancora la gente che di me viene a dire eh ma a lei ritroverà la quadra eh ma ancora è lungo sì sì è lungo la voglia siamo solo due punti in quattro partiti è lungo l'arce già sono andate via cioè è lungo il campionato tranquillo e il Cagliari già allungato e il Verona già allungato e il Bologna già allungato è lungo il campionato speriamo che Venezia Salernitana e Spezia non fanno tanti punti perché il campionato è poco lungo ancora poi prima o poi Max troverà la quadra cioè Allegri ma come la trova la quadra che non ci stanno i giocatori ma Allegri ma ha giocato per 4-4-2 di partenza Allegri cioè è costretto a giocare con questa squadra perché non c'ha i roli scoperti se no fa giocare esterno sinistro rabbio perché se no non c'è le coperture perché è una rosa altamente incompleta ma ve ne rendete conto ma quando parlate di carcio ma ho capito il carcio ma regà fino alla fine speriamo che ne andiamo in B se salviamo dai se salviamo perché tanto Max trova la quattro poi il campionato è lungo l'unico modo di trovare la quattro lo capete qual è compra cinque giocatori ci servono cinque giocatori ma io non parlo dei fenomeni cinque giocatori ci serve un terzino destro che tanto poi Danilo schioppa perché Danilo non può fare tutta la stagione terzino destro perché non ce l'ha nei cordi se no dobbiamo abbassare quadrato e quindi perdiamo pure quadrato davanti ci serve un regista che non c'avemo i rosa perché altro non è un regista però è un accomodatore di centrocampo perché con lui può fare centrocampo a tre lui, McKennie e Locatelli e ci serve un centravanti ci serve un centravanti perché col centravanti Armino panno le sue fasce e fai cross con Morata poi gioca solo in un'altra maniera però purtroppo questa è quello che c'avevo tanto voi dite che Allegri accomoda tutto Allegri è un bravo tecnico, non fa miracoli Fina a fine, Forza Juventus